Qual è al momento la situazione che vogliamo chiarire anche a riguardo del destino di questi 330 lavoratori? Certo, c'è assolutamente bisogno di chiarire perché questa mattina abbiamo appreso a mezzo stampa e non da via ufficiali che è avvenuto il fallimento della OMA e questo è un dato inconvutabile e che sicuramente era predestinato. Dalla stampa però abbiamo letto questa mattina che anche tutti i 330 lavoratori della OMA, quelli sia abruzzesi che quelli toscani, hanno perso i posti di lavoro. Però qui dobbiamo dire che non è una notizia corretta, nel senso che ad ora i lavoratori stanno lavorando, non sono stati apposti sigilli all'azienda. Quello che succederà nei prossimi giorni non lo sappiamo ma sicuramente possiamo dire che almeno per questo momento i lavoratori sono in continuità e stanno lavorando. Si tratta ora di capire se ci sarà l'esercizio provvisorio oppure no, è questo il vero dilemma? Sì, perché per noi è fondamentale la continuità occupazionale. Solo attraverso la continuità occupazionale noi possiamo sperare di prendere nuove commesse. Oggi è in gioco una commessa importante della nuova opinione che potrebbe garantire un lavoro al limite di sei mesi ma anche di più e quindi è fondamentale giocarci questa partita in questi termini. Dobbiamo salvare il lavoro e il lavoratore. Per salvare il lavoratore abbiamo bisogno di nuovi commessi, per salvare il lavoratore abbiamo bisogno di esercizi provvisorie. Ci sono dei gruppi industriali interessati alla OMA? Sì, ci sono almeno due manifestazioni di interesse ufficiali presentate in regione, la OMAGestic e la Contex. Quest'ultima presentata anche un piano industriale che rileva la gran parte dei lavoratori. È chiaro che dobbiamo fare un esame attento insieme alla regione per vedere quali sono più qualificati e soprattutto evitare che ci sia una situazione di speculazione nei confronti dei lavoratori. Per noi è necessario che ci sia la salvaguarda occupazionale e la salvaguarda del lavoro. RSA aziendale è preoccupata per il futuro, però ad oggi i lavoratori continuano a lavorare all'interno dell'azienda. Sì, in effetti questa ci tranquillizza un attimino perché abbiamo molta fiducia nell'esercizio provvisorio che a breve dovrà essere disposto dal curatore fallimentare nominato dalla recente sentenza. Quindi abbiamo molta fiducia nell'andare avanti, però senza non essere preoccupati per questa situazione veramente irreale. Grazie a tutti.